Perché chiaramente hanno fatto gol dopo pochi minuti, diciamo così, nella prima parte del primo tempo e si è messa sul calcio piazzato, non su ripartenza e di conseguenza si è messa sui binari giusti per loro quindi è chiaro che poi per cercare di fare la partita dovevamo lasciare qualche spazio però credo che nel secondo tempo l'episodio chiave è stata la grande parata di Fiorillo che poteva essere il 2-2 e poi dopo qualche minuto su una ripartenza hanno fatto gol però non eravamo messi male perché eravamo in superiorità numerica e comunque abbiamo subito gol questa è stata l'azione secondo me che ha determinato il risultato, si può dire che ha chiuso la partita perché poi abbiamo creato diverse opportunità, loro hanno superato la nostra meta a campo poche volte però si sono difesi bene, i ragazzi hanno cercato di creare qualcosa il portiere in qualche occasione è stato bravo però chiaramente il 3-1 è stato determinante anche dal punto di vista del morale Lei Marino in settimana aveva detto che il Pescara è una grande squadra, è una squadra capace di creare problemi un po' a tutte le avversarie, questa sera dei problemi Pescara li ha creati però anche voi, lei parlava del gol di Monachello del 3-1 che probabilmente ha chiuso la partita poi per i restanti 33 minuti avete attaccato senza soluzione di continuità dimostrando di avere anche un'ottima condizione fisica Sì, l'ho detto prima, loro sono stati cinici e questo significa che sono una squadra importante perché se nell'unica occasione limpida del secondo tempo chiudi la partita significa che è una squadra importante, invece noi magari dobbiamo essere più lucidi sotto porta e nelle rifiniture anche se poi nel momento importante è stato determinante come ho detto prima la parata di Fiorillo Io volevo un attimino tornare proprio sul gol che giustamente dice lei ha chiuso la gara lei ha detto che eravamo messi bene Non eravamo in inferiorità numerica, non era una ripartenza dove magari ci siamo fatti trovare spiazzati quindi c'è stato qualche errore di posizione E quanto è stato bravo il Pescara con Marras a chiamare la profondità e poi a chiamare a sua volta a Rimorchio o Monachello? È normale, se non fanno questo gli attaccanti sono stati bravi è normale se ho detto che la squadra del Pescara è una squadra forte significa delle individualità importanti i complimenti li dovete fare voi, non io certamente Per chiudere Marino, campionato questo molto equilibrato tra l'altro particolare con 19 giornate con 19 squadre si può dire che Spezia e Pescara hanno degli organici importanti e potranno recitare un ruolo importante in questo campionato? Sicuramente il Pescara ha obiettivi diversi dai nostri perché noi abbiamo costruito la squadra a strada facendo adesso stiamo recuperando giocatori importanti però noi dobbiamo cercare di fare un buon campionato di portare la gente allo stadio ci siamo riusciti che oggi c'era grande entusiasmo adesso dobbiamo cercare di recuperare i punti persi oggi fuori casa grazie a tutti